le vincite facili e giochi d'azzardo presentano le loro insidie i consigli nel gioco anche quello legale il lotto l'enalotto l'unica certezza è la vincita per chi gestisce il sistema a maggior ragione quando si tratta di gioco d'azzardo ovvero di giochi vietati dalla legge dubita quindi dei giochi molto semplici e facili di cui è ovvia la soluzione alcune emittenti propongono falsi telequiz cruciverba calcoli matematici molto facili le numerose telefonate che vengono trasmesse sono di persone che forniscono risposte sbagliate creando la convinzione di poter agevolmente vincere la somma in panno chi prova a chiamare dovrà comporre un numero che inizia con 899 oppure 892 dall'altro capo del telefono si verrà invitati a richiamare poiché le linee sono sovraccariche il costo per ogni chiamata sarà molto salato e in pochi minuti potresti compiere molti tentativi e solo a ricevimento della fattura del servizio telefonico ahimè scopriresti il reale prezzo di questo gioco attenzione l'informazione del costo del servizio è normalmente scritta in basso in bianco piccola mentre la promessa di vincita di qualche migliaia di euro è scritta a caratteri cubitali a